ciao allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 17 del libro che valido fino al 23 gennaio del 2019 questo è l'album che tutti aspettavate per tutto l'anno perché ci sono tutti i prodotti scontati fino al 40 per cento quindi su tutte le linee poi trovate delle promozioni per quanto riguarda anche i set per i capelli e poi i prodotti fine serie quindi tutto scontato fino al 60 per cento ovviamente sono fine serie quindi è salvo esaurimento scorte però c'è davvero di tanto interessante iniziamo subito a sfogliare l'album allora eccoci con l'album preferito dell'anno perché tutti i prodotti sono scontati fino al 40 per cento e poi ci sono i prodotti fin serie quindi verete i trattamenti per il viso scontati fino al 40 per cento quindi davvero ottime promozioni e tutte quante le linee faccio una carrellata veloce però tutte quante sono scontate eccole qui eccoli anche non solo quelle antietà ma anche quelli per i trattamenti del viso poi troviamo il make up stessa cosa scontati sempre fino al 40 per cento e quindi questo è davvero il caso di fare scorta sono quelle promozioni fantastiche che arrivano una volta all'anno eccoci qua tutto quanto in make up stessa cosa per i trattamenti per la cura del corpo quindi tutte quante le linee vediamo ora la promozione per i capelli perché abbiamo il set di due shampoo e in questo caso sono quelli curativi quelli stimolante o antiforfora 7 95 di due o quello purificante 5 95 e poi vediamo che comunque sono tutti i set 5 95 di tutte le linee quindi nutri riparatore ed è il pre in uno nutrizione detox volume quello in crema delicato il concentrato e la lucentezza vediamo quella brillantezza ed è protezione luminosità poi la lisciante sempre 5 95 ricci definiti e delicato vediamo ora alle promozioni con sconti fino al 60 per cento perché sono i fine serie questi vanno in esaurimento e una volta è esauriti e non è non sono più in commercio quindi tutti i prodotti ad esempio della linea e glossi eccoli qua oppure la matita jumbo e il colore rosa l'ombretto il colo intenso sempre rosa il mascara la palette i vari pennelli il fondotinta eccola qua il pure light quello zero difetti in crema gli smalti i dei pennelli per nell'arte i prodotti per nell'arte il kit pausa di dolcezza la 7 50 che comprende tutte le mini taglie da viaggio oppure la linea idra vegetale i dei set cofanetti del mattino giardin quindi linda malva ciliegia in fiore il set dei profumi e fino ad esaurimento anche la linea natalizia non di quest'anno ma quella dell'anno scorso quindi quella che comprendeva la bacca delle meraviglie e la vaniglia bianca è tutto in promozione ovviamente salvo esaurimento anche i due piccoli pensieri quindi le casettine e questo era tutto l'album abbiamo sfogliato tutto il catalogo avete visto che ci sono tantissime promozioni ovviamente bisogna sbrigarsi perché sono tanti prodotti fino a fine serie quindi una volta finiti non sono più disponibili come sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti e buone feste ancora con il magico attore al mondo di Brochet